Sono stati interrogati oggi dalla GIP di Catania, Carla Aurora Valenti, le sei persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta a Pandora della Procura di Catania. I primi ad essere interrogati dal GIP sono stati il sindaco di Tre Mestieri, Santirando, poliziotto da anni in aspettativa, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per scambio elettorale politico mafioso, e Pietro Alfio Cosentino, ritenuto il referente della clan Santa Paola Ercolano, a Tre Mestieri. Rando, nel corso degli interrogatori, ha fatto sapere di essersi dimesso da sindaco. Già ieri il prefetto di Catania, sospeso dall'incarico insieme con il consigliere comunale Mario Ronsisvalle, ai domiciliari. Secondo la Procura di Catania, i funzionari corotti avrebbero ricevuto denaro e altre varie utilità. Si è avvalso invece della facoltà di non rispondere davanti al GIP, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Pietro Alfio Cosentino, ritenuto il referente del clan Santa Paola Ercolano, a Tre Mestieri, et neo. Sentiti i quattro indagati arrestati e poste domiciliari, Giovanni Naccherato, dirigente del comune, l'architetto Puccio Monaco, all'epoca dei fatti consulente a titolo gratuito del sindaco, l'ingegnere Paolo Di Loreto e lo storico consigliere d'opposizione Mario Ronsisvalle, poi transitato tra i sostenitori di Rando alle amministrative del 2021. Sarà interrogato invece domani il deputato regionale Luca Sanmartino, indagato per corruzione dalla Procura di Catania. Grazie a tutti.